E bella a tutti ragazzi, sono il Cilberga, sono qui oggi tornato con un video che avete richiesto veramente tantissimo Infatti ieri vi avevo chiesto 70 likes, ne abbiamo raggiunti 100 e passa solamente in 5-6 ore Quindi raga vi ringrazio veramente tanto Se volete che io domani vi porti i video con i 3 migliori giocatori perché oggi vi porto i video sui filtri Perché mi hanno avuto in mente uno veramente ottimo e volevo vi portare subito così lo utilizzate anche voi Domani vi porto i 3 giocatori se arriviamo raga a 70 likes però vedo che ce la fate sempre quindi raga vi ringrazio Raga vi mostro subito il filtro in modo tale che io riesco ad andare a dormire a un'ora decente perché domani devo lavorare Quindi raga non perdiamo tempo e andiamo subito Allora raga il filtro che vi porto oggi è della serie A Soprattutto serie A giocatori oro ruolo TS Perché per chi non lo sapesse con l'uscita della sfida di Amsic i TS hanno avuto un upgrade di valore di crediti assurdo Infatti il prezzo minimo con parole dei TS oro è mi pare intorno ai 700-750 Invece no si è ancora alzato 800 è il primo che si trova però raga secondo me ce ne sono anche di meno Quindi vediamo entro quanto si vendono A 950 si vendono entro un'ora quindi a 850 850 si vendono entro 17 minuti quindi possiamo metterci a 800 si vendono subito Quindi raga noi ci mettiamo a contando che ci sono 50 tasse su 1000 Su 800 ce ne saranno di meno Ce ne saranno Secondo me ce ne saranno tipo 30 o 38 più o meno Quindi possiamo metterci a 700 prima di sniperare qualsiasi TS Raga io farò 100 tocchi e non ne farò di più perché devo andare e voglio portarvi questo video Spero di riuscire a non farlo durare tanto Vi ricordo che non sto giocando a FIFA da tanto quindi a sniperare farò cagare Perché sto giocando spesso a Fortnite però questi video visto che vi possono interessare E vi fanno fare tantissimi crediti ve li porto comunque quindi a sniperare farò cagare Però io ve li porto e cerco di mostrarvi anche Allora questi crediti li prendiamo perché a 850 si vendevano non mi ricordo Comunque raga il bello di questo filtro qua è che si trovano dei prezzi assurdi Si trovano dei prezzi assurdi e poi vi può capitare di beccare anche giocatori Che valgono più che quello a quelli sniperati tipo a 850 si vendevano entro l'ora Io questi crediti ve li mando tutta le trasferimenti poi dopo guardo i prezzi Nescono tantissimi di strinici però se vi capita di beccare uno che magari vale di più Controllate sempre i prezzi prima di venderli Non vedete tutti 850 perché vi può capitare un giocatore che vale di più E quindi magari se volete fare più crediti dovete semplicemente andare a metterli tutti Inizio trasferimenti e poi andate a controllare i prezzi e li mettete in vendita a quel prezzo lì Raga fidatevi che con questo metodo qua potete fare i milioni Davvero tantissimi tantissimi crediti Adesso purtroppo è il luna di notte quindi non usceranno tante Comunque ne avete visti ne ho già presi 3 Tipo Mario e Rui secondo me si vende un periodo in più Non lo so Noi stiamo qua e poi le mettiamo nei trasferimenti Poi dal berth valeva di più Penso di sì Dopo questo qua me li guardo che dovrebbero valere di più Raga comunque fidativi che questo qua è un metodo assurdo Mi è venuto in mente prima Santon vale No Santonsco non mi valeva Mi è venuto in mente prima e ho detto andiamo a controllare L'ho provato anche prima Ho visto che funzionava e ho detto ve lo porto subito Raga io non perdo tempo Se vedo che c'è una cosa che può portarvi i crediti Raga ve la Ve la porto subito così ci facciamo i crediti assieme No perché ne ho inviato al club Cazzo poi me lo dimenti Comunque raga per chi si fosse perso il video di ieri Ho fatto tipo 60.000 crediti con Ciccetti Andatevelo a vedere Vi spiego il motivo Finisco i 100 tocchi e poi raga ci salutiamo Un video veloce Così non mi fa perdere tempo Vi do dei consigli Così ci guadagniamo entrambi raga Io non parlo tanto tempo Non ci metto tanto a caricarlo Perché c'è una connessione di merda E quindi Non posso caricare video tanto lunghi Comunque raga Il solito consiglio Fatelo a due orari decenti Ad esempio Non a luna di sera Comunque vedete questi due giocatori qua Li prendo a 5.50 E li rivendo a 800 Così Sono E questo filtro qua è veramente ottimo Secondo me raga merita anche 80 likes Se ci arriviamo io sono felice E so che ce la possiamo fare Tranquillamente raga Uh Desciglio potrebbe valere raga Desciglio potrebbe veramente valere Non so eh Perché non so i prezzi però Ok raga mancano 7 tocchi 6 Ok raga Ci salutiamo così E nulla raga Ci vi chiamo domani Con il prossimo video Cerchiamo di arrivare ai likes E nulla raga Ci vediamo Bella